Sono presso l'azienda Farabiago Collezione che produce per Thierry Rabotin e sono stata nel reparto modelleria e lì mi hanno insegnato, cioè hanno iniziato a insegnarmi un po' tutto da zero perché comunque nel corso non avevamo fatto niente della modelleria e ho fatto il taglio dei prototipi, ho aiutato e ho visto le varie lavorazioni al CAD, ho seguito il mio tutor nella manovia e perché sono appassionatissima di moda in generale, quindi qui al Bernocchi facevi il corso moda e ho detto vabbè proviamo anche il mondo delle scarpe e adesso sono stata assunta dall'azienda per un anno. Grazie.